La nostra tendenza è rivisitare le cose antiche fatte in chiave moderna, è un locale nuovo di tendenza dove si può fare di tutto, dalla musica dal vivo, con DJ, degli spettacoli, moliche perché è in una giusta posizione tra il mare e la collina, utilizziamo tutti i prodotti a chilometro zero, la cucina è tradizionale, però con un occhio verso il futuro. Emozionati con Emozionando!